Recent Podcast del giorno dopo per parlare del Gran Premio di Sakhir sul circuito esterno del Bahrain che ha riservato una gara di Formula 1 a dir poco incredibile dal 69esimo giro in poi e anche ha segnato il titolo di Formula 2 2020 con Mick Schumacher Campione Tutto questo parleremo di questo Recent Podcast che io sto registrando domenica sera appena finito di vedere il Gran Premio quindi quello che sarà sarà un'analisi a caldo che comunque mi invito a vedere seppur pubblicato lunedì alle 13 Partiamo però dall'inizio perché il Gran Premio del Sakhir si prestava a diversi motivi di interesse nonostante il Mondiale sia ampiamente che concluso perché come sapete Lewis Hamilton partendo ovviamente dalla Formula 1 è risultato positivo al Covid e dunque non è stato appunto arrolato per questa gara e probabilmente neanche per la conclusiva di Abu Dhabi A sostituire Hamilton c'è stato George Russell pilota della Williams che è andato appunto in forza al team titolare della Mercedes e Williams ha esordito Jack Aitken pilota anche lui della Formula 2 c'è stato anche un altro esordio in Formula 1 che è quello di Pietro Fittipaldi sulla Haas comunque il vero motivo di interesse era se Bottas poteva riuscire a vincere una gara che alla fine non l'ha visto vincitore perché come vedete dal titolo e dalla copertina il podio è veramente pazzesco e incredibile ma su quello ci arriviamo si sperava di vedere i primi punti della carriera di Russell che sono effettivamente arrivati ma per il passo che aveva e per la qualificazione dimostrata poteva puntare al podio sono addirittura alla vittoria c'era da capire l'interesse di Verstappen e Leclerc che avevano fatto una signora qualificazione questo interesse in particolare viene meno subito al primo giro perché Leclerc sbaglia e è responsabile appunto del ritiro sia dello stesso pilota monegasco sia del pilota olandese Max Verstappen qui vediamo l'ultimo frame di quello che è successo al primo giro alla terza curva in fase di partenza c'è appunto il primo duello tra Leclerc e Verstappen Leclerc sbaglia la staccata in curva 2 coinvolge anche Perez che tornerà protagonista più avanti coinvolgendo anche Verstappen Leclerc è costretto a ritiro per questo errore nel cercare di superare Verstappen Verstappen per evitare guai peggiore finisce anche lui per le terre non riesce però a tenere la vettura in pista e finisce ovviamente sulle barriere e si deve ritirare dunque io che ho visto la gara a caldo ho detto boh la gara è già finita adesso le Mercedes andranno via e sarà la solita gara 1-2 Mercedes con appunto un eventuale duello tra Bottas e Russell ed effettivamente era così con addirittura Giorgione Russell di cui io facevo il tifo spuduatamente in questa gara ovviamente era primo con Bottas che tanto per cambiare canna una partenza delle sue non succede praticamente niente in realtà dal giro 2 quindi dopo che è successo questo incidente con tra l'altro anche coinvolgimento di Perez che per fortuna sua rimane in pista fino al giro 69 dove succede l'irreparabile in casa Mercedes c'è una safety car per un incidente a Nicola Saltifi pilota della Williams e questa è l'immagine dei vari pit stop come vedete la classifica al momento del pit stop era Russell primo Bottas secondo succede però di tutto perché la Mercedes si dimentica di essere diciamo un box affidabile e di fatto succede una cosa che non avevo praticamente mai visto ovvero c'è un errore nell'assegnare le gomme ai vari piloti di fatto le gomme di Bottas e Russell vengono scambiate succede un casino della madonna praticamente a Russell vengono mettate le gomme di Bottas e viceversa vengono fatti fermare entrambi a Bottas poi gli rimettono le gomme dure quindi usate ed è per questo che Bottas farà molta fatica nella seconda parte di gara anche Russell dovrà rientrare per evidente errore del box e dunque gli rimettono le effettive le gomme sue e praticamente i quelli che sono terzo quarto e quinto di questa classifica ovvero Perez con Estroll incredibilmente per una botta di culo pazzesca si ritrovano a essere primo, secondo e terzo e sarà addirittura questo il podio finale perché sì ragazzi dopo 190 gran premi possiamo finalmente parlare della prima vittoria di carriera di Sergio Perez pilota trentenne della Racing Point o la macchina rosa che dir si voglia è il podio dell'irreparabile un podio che non avrei mai scommesso me l'avessero detto prima della partenza perché è vero primo Perez nella macchina rosa ne piazza addirittura due sul podio con Stroll terzo e questa cosa mi manda ai matti seconda posizione per Esteban Ocon al primo podio della carriera e dunque è un podio degli altri il podio di quelli che si giocavano il campionato al di là della Mercedes e di Verstappen che oggi gioco forza non ha potuto partecipare alla gara perché è stato sbattuto fuori Albon non fa parte evidentemente della Red Bull evidentemente con la gara che ha fatto allora c'era spazio per Racing Point per Force India oltre ovviamente la debacle della Mercedes perché è vero che Perez ha vinto e in condizioni normali sarebbe arrivato a podio comunque terzo ma ovviamente senza questo errore grossolano della Mercedes che veramente mi ricorda il muretto Ferrari dei tempi d'oro anche dell'anno scorso cioè una roba del genere io non me lo sarei mai aspettato dalla Mercedes che ha sempre dimostrato di fare le strategie ad hoc praticamente per Hamilton però comunque strategie giuste nella maggior parte dei casi qui sono andati veramente nella confusione più totale e hanno volutamente mischiato le carte probabilmente per un eccesso di sicurezza perché pensavano sotto safety card fare il doppio pit stop come già fatto e uscire primi questa volta gli si è ritorto contro tutto quando ovviamente non conta perché il mondiale lo sappiamo l'ha già vinto Lewis Hamilton ma questa cosa ha di fatto ravvivato una gara che altrimenti avrebbe visto una doppietta Mercedes con probabilmente Russell davanti a Bottas poi oggi al traquarto Bottas è arrivato davanti a Russell ma alla fine Bottas è finito ottavo visto una crisi di gomme incredibile visto che aveva le gomme dure usate e Russell nono ma per Russell va in realtà bene così considerato che è un semidebuttante anche se molto talentuoso anche se le premesse ovviamente erano diverse il podio è anche l'immagine di copertina di questo Racing Podcast perché è veramente un podio con Perez o con Estrol onestamente in condizioni normali non si può vedere ci è voluta una cappellata gigantesca del muretto Mercedes che ripeto sembrava il muretto Ferrari ma per fortuna la Mercedes ogni tanto può sbagliare certo sbaglia quando non conta sbagliasse quando contasse parleremmo di un mondiale un po' più aperto fatto sta che un podio del genere è poetico a dir poco e dunque celebriamo la prima vittoria di carriera di un pilota a Perez che tra l'altro rischia di rimanere a casa l'anno prossimo perché non è detto che il messicano rimanga in Formula 1 l'anno prossimo aveva detto di prendersi eventualmente un anno sabbatico di essere in trattativa con alcune squadre si parla per esempio di Red Bull come seconda guida diciamo che questa vittoria di Perez seriamente parlando lo canida seriamente a quel sedile da Red Bull al posto del povero Albon che anche oggi ha fatto veramente una prestazione in colore per la prima volta in 190 Gran Premi e per la prima volta dopo 30 anni abbiamo sentito l'inno nazionale messicano che per la Conaca è abbastanza brutto musicalmente tutti questi signori sul podio possono essere assolutamente contenti perché appunto Perez vince per la prima volta O'Connor primo podio della carriera e Stroll si riconferma sul podio in maniera incredibile smontando il meme ai miei occhi della macchina rosa Stroll è al secondo podio consecutivo che cosa succede con questa vittoria di Perez succede che appunto il messicano si issa da solo nel primo posto del campionato degli altri perché Walter Ibotta Solis Hamilton e Max Verstappen fanno il campionato degli altri Perez sale a 125 punti O'Connor con questo secondo podio sale a 60 e Lance Stroll sale a 74 per piazzamenti che di fatto non contano gli altri piazzamenti al di fuori della classifica dei primi tre l'abbiamo detto Carlos Sainz Junior quarto con una McLaren che comunque su questo circuito esterno del Bahrain si è trovata abbastanza bene quinto Daniel Ricciardo che con la Renault comunque fa ancora una volta una buona prestazione peccato perché in queste condizioni poteva forse fare qualcosa di più visto anche la posizione di O'Conn suo campano di squadra setta posizione per Alexander Albon che comunque è sempre più a rischio ogni volta che fa i risultati comunque terza gara punti consecutiva per l'anglo-thailandese settima posizione per Torpedo Daniel Kiat che è stato confermato in uscita dalla Formula 1 per l'anno prossimo pare che in Formula 1 al suo posto ci vada Yuki Tsunoda pilota giapponese del team Carlin di cui parleremo dopo ottava posizione per Valtteri Bottas che abbiamo detto partiva dalla pole ha subito ancora una volta un problema di casa Mercedes perché tanto per cambiare se deve andare male qualcosa di Mercedes deve andare a Valtteri Bottas e evidentemente né a Russell né a Hamilton non a posizione in realtà per Giorgione Nostro Nazionale di cui finalmente arrivano i primi punti in chietiera ma io onestamente avevo fatto una scommessa privata dicendo che Russell sarebbe arrivato davanti a Bottas e anche sul podio poteva addirittura vincerla è più rammarico in realtà della contentezza ma comunque per Russell è veramente una signora prestazione ed è veramente il viatico a quello che può essere un futuro campione Russell è un pilota veramente talentuoso ha vinto Formula 3 e Formula 2 al primo anno io che seguo tutte le categorie minori l'ho sempre battezzato come un ottimo pilota e attenzione a lui per i prossimi anni un altro inglese chiude la zona punti è Landone Norris con l'altra McLaren una gara in realtà abbastanza anonima per il Landone nazionale parentesi sugli esordienti e sulla Ferrari di Leclerc abbiamo detto è durata tre curve la sua gara ovviamente in quel caso la colpa è sua ed è giusto che abbia tra virgolette pagato con il ritiro Sebastian Vettel gliene manca sempre uno in meno per concludere questa disgraziata avventura con la Ferrari di questa stagione è tornato nei ranghi in dodicesima posizione in un circuito veramente quasi da ovale indicar per il pilota tedesco Giovinazzi finisce il tredicesimo appena dietro con un Alfa Romeo che ha fatto fatica gli altri motorizzati Ferrari hanno fatto comunque fatica perché Alfa Romeo e Hasson sempre in fondo sono cambiati gli interpreti Pietro Fittipaldi ha esordito questa gara al posto di Romain Grosjean che è tornato comunque dopo il terribile incidente della volta scorsa è ovviamente in condizioni di non correre sta bene ha salutato tutti i meccanici il suo rientro è stato veramente molto toccante e torno a ripetere Grosjean è stato un miracolato a sopravvivere a quel drammatico incidente e a ripresentarsi quantomeno in pista seppur da spettatore in questa gara è veramente felice di vedere Romain ancora nel paddock seppur appunto in una veste non da pilota il suo sostituto Fittipaldi ha fatto quello che poteva è arrivato ultimo in pista 17esimo comunque onesta prestazione per il pilota brasiliano così come onesta prestazione per Jack Etken che di colpo da settimana scorsa che correva in Formula 2 si è ritrovato in Formula 1 ha superato comunque Fittipaldi ha vinto la sua gara dunque ottima prestazione per quanto riguarda il terzo pilota della Williams che comunque non è arrivato ultimo è già un successo così il mio driver del giorno per tutto quello che è successo e per quanto io fossi emotivamente coinvolto da lui è comunque George Russell perché è vero ha avuto molta sfortuna perché anche lui ha subito la penalizzazione inflitta dal suo stesso muretto se arrivava a podio era veramente l'apoteosi e ci poteva arrivare considerato che Hamilton verosimilmente non correrà ad Abu Dhabi probabilmente avrà un'altra occasione per rifarsi e attenzione perché ripeto George Russell sarà il pilota del futuro di questa Mercedes e un probabile campione del mondo delusione del giorno mi vende a dire ancora una volta il suo compagno di squadra Valtteri Bottas perché in qualifica ok bene ha battuto Russell ma per solo i 26 millesimi però pole position comunque di Bottas è un circuito veramente corto che la Formula 1 ha girato in meno di 55 secondi però in gara è sempre stato dietro non ha mai dato l'impressione se non propriamente al primo cambio gomme con le gomme dure di potersi farsi sotto a Russell anche lui poi nella sfiga generale del muretto Mercedes l'ha pagata ed è finito ancora una volta ottavo diciamo nell'anno di Bottas però onestamente c'ha più sfiga che anima quest'uomo però rischiava di farsi battere anche da Russell e questa cosa deve veramente far riflettere per quanto Russell sia un talentuoso nessuno penso si possa permettere di venire lì e battere Bottas che comunque è tutto fuori che è un pilota fermo evidentemente psicologicamente Bottas ha accusato il colpo di essere asfaltato prima da Hamilton e poi in questa gara da George Russell Formula 1 che avrà comunque un ultimo appuntamento l'appuntamento di Santa Lucia ad Abu Dhabi dove vedremo se ancora una volta le Mercedes faranno una gara secondo pronostico e Russell potrà confermarsi sui livelli fatti vedere per tre quarti di gara ovvero nelle primissime posizioni ha chiuso invece i battenti la Formula 2 per quest'anno e passiamo all'altro argomento topico della giornata ovvero il titolo di Mick Schumacher che qui vediamo appunto dell'immagine celebrativa della FIA Mick Schumacher ha vinto il titolo di Formula 2 gestendo il vantaggio sull'altro rivale il titolo inglese Carlo Milot anche lui Ferrari Driver Academy Mick Schumacher andrà in Formula 1 l'anno prossimo in Haas al posto di Magnussen affiancato da Nikita Mazepin che si triterà Romain Grosjean due piloti della Formula 2 dunque giovani per la Haas due piloti molto diversi due piloti che hanno comunque tanta storia dietro nel senso che in particolare Schumacher sappiamo di chi è figlio è figlio della leggenda Michael Schumacher ed è per questo che un pochino la stampa italiana lo ha pompato fino all'inverosimile come un grandissimo pilota un grandissimo campione Schumacher Junior non è un grandissimo campione sfatiamo il mito è un pilota comunque molto bravo è un pilota costante che ha subito comunque la pressione in questa gara e ha sfruttato anche in realtà i demeriti di Callum Milot che nel corso del campionato sono stati diversi in ogni caso ha vinto il campionato con una grande costanza ha vinto tre gare ha gestito il vantaggio seppur componendo con una gara 2 non molto positiva anzi in realtà abbastanza negativa perché Schumacher Junior è arrivato ventesimo comunque avremo ancora una volta un figlio d'arte in Formula 1 e vedremo cosa potrà combinare Schumacher è un pilota della Driver Academy della Ferrari quindi evidentemente farà un percorso simile mi immagino a Leclerc con Leclerc la Ferrari ci ha visto bene con Schumacher per il momento ha trovato un pilota molto costante che di solito gestisce bene le corse non in questo caso perché un suo errore lo relega in realtà al ventesimo posto addirittura anzi diciottesimo nell'ultima competizione del Bahrain fortuna vuole che anche Callum Milot è un pilota che ha sbagliato tanto in questa stagione e ha vinto molto meno di quanto poteva dimostrare la squadra e il talento del pilota inglese Callum Milot finisce addirittura fuori dai punti e dunque il vantaggio di Schumacher rimane invariato a 14 punti e dunque il tedesco è campione del mondo Formula 2 2020 un titolo che in realtà era abbastanza scritto dopo in realtà il primo appuntamento del Bahrain dopo che Callum Milot è finito fuori dai punti in gara 2 segnò che appunto l'altro pilota della Ferrari Driver Academy ovvero Callum Milot è incostante più di Schumacher che comunque ha dimostrato tra Catalogna Spa Monza e Sochi di fare tanti poti consecutivi ha gestito il vantaggio ha sfruttato anche dei meriti di Hilot che a Silverstone ha perso dei punti preziosi ha raccolto meno di quanto poteva raccogliere in ogni caso da onore al merito a Mick Schumacher che dunque andrà in Formula l'anno prossimo vi dicevo con Nikita Mazepin che è il quinto in classifica della Formula 2 di questi che abbiamo visto in Formula 2 ritroveremo in Formula 1 appunto Schumacher Mazepin probabilmente quest'uomo ovvero Yuki Tsunoda che è il vincitore della prima gara del Bahrain per lui suona il Kimi Gaiolo nazionale giapponese Tsunoda può essere probabilmente uno dei piloti che ha rimpianto questa stagione ha pagato probabilmente una parte centrale di campionato in Italia però similmente tra Monza e Mugello molto deficitaria con soltanto un podio in quattro gare anzi cinque se contiamo la Russia perché in Italia ha fatto poco e niente Tsunoda dovrebbe andare al posto di Kiat in Alfa Tauri ma attenzione a Tsunoda gran bel pilota anche il giapponese podio asiatico perché in seconda posizione c'è Guan Yu Zhou pilota cinese che anche lui in realtà è una mezza delusione di questo campionato ma se dovesse rimanere l'anno prossimo in Formula 2 e mi auguro di sì può essere un gran pretendente al circuito dell'anno prossimo terza posizione per Felipe Drugovic altro pilota che è emerso in questa stagione soprattutto nella parte finale del campionato in Bahrain sempre questo circuito ma la versione più lunga dove ha vinto una gara di pura gestione qui fa podio in gara 1 dunque conferma che anche questo può essere un buon pilota in vista dell'anno prossimo gara 2 è doppietta del team Carlin perché vincono gara 1 ma vincono anche gara 2 con il compagno di squadra di Zona ovvero Ihan Daruva la prima vittoria per lui in Formula 2 suona l'inno in nazionale indiano che è Yana Mana Gama seconda posizione per ancora una volta Yuki Tsunoda che veramente in questa pista ha dimostrato di essere veramente impattibile e anche il team Carlin in questa pista del Bahrain aveva un setup veramente interessante terza posizione per Dan Tiktum pilota che poteva vincerla ma invece purtroppo deve inchinarsi a questa gara sontuosa del team Carlin Tiktum è un pilota che potrà crescere se rimanesse in Formula 2 il prossimo anno parentesi su Luca Ghiotto chiude nei primi 10 questa ultima stagione verosimilmente in Formula 2 finisce a punti nell'ultima delle due competizioni il pilota italiano che ha vinto una sola gara quest'anno un pilota che per talento avrebbe meritato molto di più purtroppo in Formula 2 c'è un regolamento che impone un massimo di 4 stagioni per ogni pilota nel correre in Formula 2 Ghiotto credo sia arrivato già al massimale così come altri piloti come per esempio Sean Ghellael probabilmente lo vedremo nei campionati GT aveva già un contratto con Aston Martin quindi per seguire il pilota Vincentino andiamo nelle categorie turismo in ogni caso è un campionato di Formula 2 che non ha mai avuto un vero e proprio padrone ha trovato il suo campione comunque nelle fasi finali vince ripeto Mick Schumacher figlio di Michael pilota comunque interessante non è un pilota talentuoso è un pilota molto ragionatore che ha vinto solo due gare quest'anno ma come Antoine Hubert che vinse il campionato di GP3 2018 con la costanza ha vinto il titolo del mondo Formula 2 ed è veramente meritato perché comunque se arrivi primo di certo non ci arrivi semplicemente per fortuna ma deve avere delle qualità e la qualità di Mick Schumacher indubbiamente non è il talento puro magari come il padre bensì una capacità di gestione in Formula 1 sarà veramente tanto difficile e non sarà facile in Haas che è un team motorizzato Ferrari perché se il motore è quello dell'anno scorso cioè di quest'anno auguri ai motorizzati Ferrari anche per il prossimo anno in ogni caso ci sarà tempo e modo di vedere il figlio di Michael in Formula 1 in ogni caso è lui il campione della categoria vi lascio con il podio della Formula 1 con Perez primo o con secondo con la Renault e Lance Stroll terzo con la seconda macchina rosa fate misure cose ne pensate iscrivetevi se ancora non l'avete fatto la Formula 1 tornerà domenica con l'ultimo post gara con il campione di Abu Dhabi ma giovedì all'ora di pranzo ci sarà un contenuto extra speciale su uno sport invernale che seguo che avrà le prime medaglie da segnare in un campionato nel mondo ma lo scopriremo intanto giovedì intanto il saluto di Matthew Thorgard e ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video